Navi di migranti soccorsi nel Mediterraneo in arrivo al porto di Ancuna. Cambio di giunta a Pesaro, Maria Rosa Conti, nuovo assessore. Caro Energia, 12 famiglie pesaresi sperimentano la comunità solare. Urbino non ha più il vescovo, diocesi accorpata a Pesaro. Sport, splendido inizio di 2023 per WL, VIS e ItalService. Benvenuti carissimi telespettatori al nostro telegiornale. Oggi è lunedì 9 gennaio e apriamo questa edizione facendovi vedere le immagini che ci arrivano dal porto di Ancuna, porto che per la prima volta accoglierà due navi di migranti soccorsi nel Mediterraneo. Accadrà esattamente nella mattinata di mercoledì e oggi l'assessore regionale Aguzzi ha fatto il punto sui preparativi per questo inedito approdo degli sbarchi sulle coste marchigiane. Vediamo. Il porto di Ancuna apre per la prima volta agli sbarchi dei migranti. Fra il tardo pomeriggio di domani e la mattina di giovedì arriveranno nello scallo d'Orico dopo quattro giorni di navigazione le due navi che trasportano migranti soccorsi nel Mediterraneo, ovvero la Ocean Viking di SOS Mediterranei dove ci sono 37 migranti salvati al largo della Libia che dovrebbe attraccare attorno alle 19 di martedì 10 gennaio e poi la Jovarens di Medici Senza Frontiere che dovrebbe seguirla nel primo mattino di giovedì con 73 migranti a bordo. In tutto 110 persone tra cui un numero imprecisato di minori diversi dai quali non accompagnati. Oggi al porto il sopralluogo istituzionale per predisporre la prima accoglienza alle navi e apparecchiare lo smistamento dei migranti nelle destinazioni previste dal Ministero dell'Interno. Stiamo allestendo quest'area per consentire un'accoglienza funzionale e dignitosa a queste due imbarcazioni che arriveranno dopo domani con circa 110 profughi a bordo. Noi siamo stati investiti di questo dalla prefettura sabato mattina, ci hanno chiesto di partecipare di una riunione come protezione civile regionale proprio per prevedere nel miglior modo possibile la funzionalità di questo sbarco. Io ci tengo a dire che queste sono situazioni che non riguardano direttamente la regione Marche perché sono situazioni che vengono gestite a livello nazionale e a livello locale attraverso la prefettura. Anzi io voglio anche ringraziare il prefetto Pellos perché è stato intanto gentilissimo e anche molto attento nell'investirci direttamente di questa situazione. Sabato abbiamo partecipato come protezione civile ad una riunione in prefettura dove si è stabilito un po' i ruoli e le situazioni. Quindi il ruolo nostro qual è? Noi abbiamo dato la disponibilità come protezione civile regionale ad impiantare qui, vedete che lo stiamo facendo con tutti i volontari che ringrazio alle nostre spalle, alle mie spalle, stiamo sistemando cinque contenne di fatto che saranno il punto di primo controllo di questi migranti che saranno sbarcati qui, poi ci saranno anche dei controlli immagino sanitari oltre che personali, ci sarà quindi un'area di accoglienza, i bagni, un'area riscaldata dove poterli stazionare in attesa che poi vengano tutti identificati, visitati e immagino poi dislocati in altre aree della regione, anche proprio da altre aree italiane perché io non credo che i migranti arrivando qui in Ancona poi rimarranno tutti quanti qui. Ma queste ripeto sono questioni che vengono gestite dalla prefettura e dal dipartimento nazionale. Quindi noi come regione Marchi abbiamo dato la disponibilità alla prefettura di allestire questo punto di prima accoglienza. Credo che sia doveroso come servizio, la protezione civile è molto attenta a queste situazioni. Ed ora torniamo a Pesaro, parliamo di politica con il 2023 della giunta di Matteo Ricci che si apre con una novità, quello della nomina di Maria Rosa Conti in qualità di nuovo assessore del comune di Pesaro, assessore alla sostenibilità al posto di Aidi Morotti. Esattamente un anno fa Matteo Ricci salutava le assessore Giuliana Ceccarelli e Sara Mengucci per accogliere Camilla Murgia e Luca Pandolfi come nuovi assessori alla crescita e alla solidarietà. 12 mesi dopo il sindaco di Pesaro apre politicamente il 2023 con un altro mini rimpasto di giunta aprendo le porte a Maria Rosa Conti che subentra da Aidi Morotti come nuovo assessore alla sostenibilità. La Morotti sarà destinata a una società partecipata, la Conti, avvocato e capogruppo consigliare di Europa Verde, entra in giunta come risposta politica alla crescita dei Verdi sia sul territorio sia all'opposizione del governo Meloni in Parlamento. La Conti erediterà le deleghe della Morotti, eccezione fatta per le politiche giovanili che passano a Camilla Murgia. Sembrano diritto ma in realtà non sono così scontati i ringraziamenti che io faccio al sindaco perché da parte sua è una cosa che riconosco non solo come leader di questo partito a livello territoriale ma anche come espressione di tutto il gruppo che mi ha seguito in questo percorso fino ad arrivare appunto a entrare per la prima volta, questo lo voglio sottolineare nella storia della politica pesarese della compagine dei Verdi nel governo della città, nella giunta comunale. È un ringraziamento, dicevo, non scontato nel senso che il passo che ha fatto il sindaco ha dimostrato ancora una volta che è un dirigente politico strategico lungimirante come ha intravisto l'importanza di iniziare un percorso con un partito, un movimento come quello del Movimento 5 Stelle e con una certa generosità e anche diciamo riflessione politica da parte di un dirigente di un partito come quello democratico che deve affrontare un congresso a breve l'importanza appunto di condividere le tematiche e realmente di creare un'alleanza progressista che porti avanti questo tipo di sensibilità. All'assessorato della Conti sarà delegata una transizione ecologica che è propria del DNA dei Verdi Ci sarà una ripartenza da temi portati avanti dal precedente assessore ma con uno spostamento di prospettiva Sicuramente da quello che sto già percependo non ci sarà una discontinuità netta nel senso che fino ad oggi comunque ci sono stati dei lavori iniziati, portati avanti parlo per esempio quello sulla comunità solare che è molto importante ma anche un percorso iniziato con l'assessorato dove io ero presidente appunto nella Commissione del Verde Pubblico che riguarda la strategia degli spazi aperti e cioè quindi la gestione dei parchi la gestione del verde urbano, l'integrazione, una visione diciamo più integrata e funzionale o meglio polifunzionale di tutto quello che è l'abitato urbano rispetto all'ambiente urbanistico questa visione nuova appunto della città, quella non più solo di urbs, di mattoni ma quella di comunità Credo che non sia un inizio appunto proprio per questo ma sia sicuramente però un radicale spostamento di divisioni appunto per quanto riguarda i temi ambientali semplicemente perché i verdi hanno quella che noi chiamiamo appunto idea di ecosistema ambientale quella di visione non antropocentrica ma biocentrica o ecocentrica che vuol partire appunto dal concetto di sistema appunto di bios e di habitat appunto naturale E con l'entrata di Maria Rosa Conti in giunta si libera un posto in consiglio comunale che ora verrà occupato da Giulia Vitali che già fu consigliera del PD nello scorso mandato Roberto Biagiotti diventa invece consigliere di maggioranza dopo che nelle ultime elezioni politiche è passato al centro-sinistra E come abbiamo detto poco fa Aidi Morotti non sarà più assessore al Comune di Pesaro ma continuerà ad occuparsi di tematiche energetiche in una società partecipata tematiche che proprio in questi giorni hanno visto ad esempio avviare la sperimentazione di una comunità solare che coinvolge 12 famiglie pesaresi in nuove opportunità di risparmio energetico Da ieri Aidi Morotti non è più l'assessore alla sostenibilità del Comune di Pesaro ma come annunciato dal sindaco Matteo Ricci continuerà a far parte della squadra comunale andando a ricoprire un ruolo di gestione in temi energetici in una società partecipata Proprio su queste tematiche la Morotti è stata regista nelle ultime settimane di una operazione importante sulle sperimentazioni di risparmio energetico Quello della creazione di una comunità solare che sta coinvolgendo 12 famiglie pesaresi scelta e campione in un progetto realizzato con l'azienda Renco e il centro per le comunità solari dell'Università di Bologna Le comunità solari sono una risposta semplificata se volete passarmi il termine a quello che sono i principi che regolano le comunità energetiche Quindi mentre le comunità energetiche hanno un percorso stabilito e abbastanza complicato a livello burocratico la comunità solare invece è un percorso molto più snello e che prevede che ci sia l'apporto di quello che noi chiamiamo un grande produttore quindi con pannelli solari Quindi questa è l'operazione che abbiamo proposto a Renco che ha messo a disposizione i suoi impianti e ci sono già 12 famiglie che sono state usate come pilota per poter capire quali erano le eventuali criticità del progetto che stanno autoconsumando l'energia che Renco produce e da questo verrà fuori un alla fine dell'anno quindi una volta l'anno avverrà un rimborso tramite bolletta del proprio gestore rispetto a quelli che sono i consumi Diciamo che abbiamo fatto una valutazione di queste 12 famiglie si sono occupate di questo proprio la comunità solari che sono già, vorrei ricordare, una realtà che nel Comune di Medicina esiste da 11 anni quasi quindi non ci siamo inventati nulla di nuovo ma arriviamo su un progetto che già è stato messo in piedi e che già funziona quindi abbiamo cercato di replicare la bontà di questa cosa anche a Pesaro e il principio si basa sul fatto che una grande azienda possa fare del welfare quindi mettere a disposizione i propri impianti mettere a disposizione una base economica per permettere alle famiglie di entrare all'interno di comunità solari per poter avere lo smart meter a casa perché ovviamente è necessario controllare e quantificare quanti sono i kilowatt prodotti poi i kilowatt autoconsumati Per le famiglie cambia dunque il paradigma di utilizzo di elettrodomestici in base ai momenti di massima produzione di energia solare Per fare tutto questo le famiglie sono aiutate, come dicevo, da questi smart meter che hanno, semplificando al massimo, una specie di semaforino sopra in cui indicano quanti kilowatt vengono prodotti e quindi quali sono i momenti migliori nella giornata per consumare quindi semaforo verde, semaforo giallo o semaforo rosso per cui è un procedimento che tutto sommato nella sostanza è molto semplice ma la ricaduta sociale è veramente grande Abbiamo valutato che le famiglie, le 12 famiglie studiando le bollette dell'anno precedente, di un anno intero avevano consumato tutte non meno di 600 euro e si ipotizza che con un buon utilizzo di quelle che sono le risorse di comunità solari possano abbattere questo costo anche di cifre che girano intorno al 50% quindi un buon aiuto per le famiglie Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci è stato ascoltato questa mattina in tribunale come testimone nel processo che lo vede vittima di insulti diffamatori su Facebook I fatti risalgono alla primavera 2020 in pieno tempo Covid quando un 51enne pesarese, secondo l'accusa, avrebbe pubblicato su alcuni gruppi social commenti lesivi dell'onore e del decoro del sindaco Il PM ha chiesto 4.000 euro di condanna mentre il comune, costituitosi come parte civile ha chiesto 30.000 euro di risarcimento e 15 di provvisionale Il primo cittadino ha comunicato al giudice che ritirerebbe la querela in caso di risarcimento da devolvere in beneficenza altrimenti è intenzionato a portare avanti il processo Questo è il secondo caso simile che vede Ricci nelle vesti della parte offesa Nel precedente episodio le denunce fatte dallo stesso sindaco sempre per diffamazione tramite Facebook avevano portato il giudice a condannare un 57enne pesarese a 800 euro di multa e un risarcimento di 3.000 euro Ed ora cambiamo argomento perché a Pesaro si sono aperte le iscrizioni alle scuole dell'infanzia per l'anno 2023-2024 Iscrizioni che si chiuderanno il 30 gennaio e rispetto al passato il comune prevede già che questa volta non ci sarà nessun bambino che rimarrà fuori dalle graduatorie della scuola di infanzia comunali e statali ovvero 28 istituti per 1.900 posti disponibili nella fascia tra i 3 e i 6 anni che corrispondono ad una cifra vicina al 100% delle richieste delle famiglie E c'è più posto negli asili anche perché si registra un drastico calo delle nascite nella regione Marche secondo i dati pubblicati oggi dal centro studi della CGL Ires Marche tra il 2011 e 2021 le nascite della popolazione residente nelle Marche sono diminuite del 33,4% passando da 13.858 a 9.222 ovvero registrando un calo di 4.634 unità la provincia che ha segnato la maggior decrescita è quella di Pesaro Urbino con un preoccupante meno 37% dati che anche l'ultimo anno non ha smentito registrando un ulteriore calo con 210 neonati in meno rispetto all'anno precedente Adesso ci spostiamo a Urbino comunità che da sabato non ha più un vescovo è infatti ufficiale l'accorpamento dell'arcidiocesi di Pesaro presieduta dal Monsignor Salvo Salvucci una decisione però mal digerita dalla comunità urbinate Monsignor Giovannitani è l'ultimo arcivescovo della storia di Urbino la diocesi da una storia millenaria perde l'autonomia vedendosi ora accorpata a Pesaro l'annuncio è arrivato sabato 7 gennaio come ventilato da mesi la diocesi Urbino-Urbania-Sant'Angelo-Invado viene unita a Pesaro con Monsignor Sandro Salvucci Ministero della nuova Arcidiocesi Allargata Vani sono stati tentativi della comunità urbinate di evitare un impoverimento culturale e spirituale per il quale negli ultimi mesi si erano raccolte anche più di 2000 firme e la politica stessa si era schierata non condividendo questa scelta accorpamento che noi ci aspettiamo dalla politica ma sinceramente dalla Chiesa dal Santo Padre questo non ce l'aspettiamo io perlomeno non me l'aspettavo che si continui appunto a impoverire e quindi essere lontani dalle persone che sono più fragili perché sono in un territorio più impervio più difficile da raggiungere quindi le comunità spesso anche un po' più anziane che hanno veramente bisogno della Chiesa della vicinanza della Chiesa per chi è della religione cattolica ma anche per chi è ateo quindi una decisione credo che noi non potremmo mai condividere al di là del messaggio che poi nella forma come è stato dato non c'è stato dato il tempo neanche di recepire qual era appunto la decisione definitiva ma comunicato il giorno stesso dell'annuncio l'arcivescovo Sandro Salvucci dopo otto mesi a Pesaro viene chiamato ad un allargamento di impegno senza precedenti e sabato in un videomessaggio ha cercato di rassicurare i fedeli dei territori del Monte Feltro comprendo molto bene i timori di chi avendo a cuore le sorti future dei centri, delle comunità, dell'entroterra vede in questa scelta il rischio di un abbandono anche da parte delle autorità ecclesiastiche accanto alla possibile perdita di altri presidi e di carattere civile nel territorio è inevitabile che tutto questo sia considerato come un ingiusto e ingiustificato depauperamento di una terra ricca di storia tradizioni, di realtà ecclesiali e sociali vive e dinamiche nonostante il fenomeno dello spopolamento si tratta di un passaggio senza precedenti per Urbino e direi anche per Pesaro doloroso, certamente non facile da accettare ma cercheremo insieme vescovo, presbiteri, diaconi consacrate, consacrati, fedeli laici di leggere i segni dei tempi per aprirci alle novità che lo spirito sta preparando per il futuro delle nostre chiese e coglierne insieme le opportunità positive l'amministrazione comunale di Vallefoglia ha rilevato che sul territorio di propria competenza sia registrato un aumento significativo del numero di piccioni questo aumento che potrebbe causare disagi legati all'accumulo di escrementi e al rischio di malattie ha indotto il sindaco e la giunta comunale a disporre di un'ordinanza che ora vieta la somministrazione di alimenti ai piccioni per contenere la loro proliferazione in ambito urbano sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per guardie zoofile dell'OIPA nelle 5 province delle Marche i corsi che si terranno online saranno gratuiti della durata di 4 mesi e inizieranno il prossimo 27 febbraio le pre-iscrizioni sono già aperte e termineranno il 18 febbraio ma prima è richiesta l'iscrizione all'OIPA come socio benemerito le guardie zoofile volontarie OIPA rivestiranno la qualifica di pubblici ufficiali agenti di polizia amministrativa e nei casi previsti di polizia giudiziaria a Monbaroccio durante queste festività comune volontari e ristoratori si sono rimboccati le maniche per fornire pasti ad una decina di famiglie monbaroccesi in stato di povertà che hanno ricevuto da uno a sei pasti preparati dai ristoranti La Coppa Mondrigo Piccolo Mondo e dall'agriturismo Mimulus un bel gesto di solidarietà completato dai tanti volontari che si sono fatti carico di consegnare i pasti a domicilio Solidarietà anche a Pesaro dove il 2022 è stato il primo vero anno di iniziative dell'Auser Pantano che in appena 15 mesi dal giorno della sua istituzione ha già portato a termine tante operazioni di volontariato Presentatosi alla città di Pesaro il 17 settembre 2021 l'Auser Pantano conclude il suo primo anno intero all'insegna del volontariato tante le iniziative che hanno visto in prima fila l'associazione capitanata dal presidente Ezio Bracco capace di coinvolgere in appena 15 mesi più di 90 soci con un range di età degli iscritti che va dai 9 ai 75 anni è stato un anno estremamente molto importante perché per noi era la vera partenza era l'anno della prova la prova del 9 perché poi comunque ci hanno messo un po' tutti alla prova e credo che abbiamo fatto un grande lavoro un lavoro di squadra perché vogliamo essere un'Auser diversa non un'Auser proiettato con un singolo progetto o sull'infanzia o sugli anziani ma noi la nostra Auser è un Auser trasversale che prende dai bambini agli adulti passando anche per lo sport perché abbiamo anche fatto e sostenuto una squadra femminile la squadra femminile di basket la nazionale di basket femminile sorde ma abbiamo anche creato il progetto sulla costituzione con i bambini che riprenderà quest'anno poi abbiamo pensato di essere utili al quartiere con dei servizi e quindi abbiamo ideato Sportello Amico Sportello Amico dove i consiglieri di quartiere partecipano per quello che è l'informazione amministrativa noi come Auser con una nostra infermiera partecipiamo per quello che è la misurazione della pressione piccoli consigli sulla salute Enorme il lavoro svolto da Auser Pantano anche in termini di soldi raccolti e poi devoluti ad oggi circa 2000 euro complessivi sono stati donati ai diversi servizi del territorio come Caritas Croce Rossa e Aias ma soprattutto dopo i fatti risalenti al 15 settembre scorso un importante aiuto è stato distribuito all'Auser di Cantiano abbiamo donato 1000 euro all'Auser di Cantiano dopo il fatto del 15 settembre che hanno subito un dramma che ancora oggi è dramma perché sono ancora in ginocchio ed è una situazione che va sostenuta il 2023 invece che anno sarà per voi? ripartono tutte le attività il lunedì la ginnastica quindi movimento per tutte le età il mercoledì la camminata del quartiere quindi una camminata più che altro una camminata d'amicizia dove ci si scambia delle opinioni passeggiando guardando il quartiere che è comunque un bel quartiere ritorna il Cineforum perché c'è stato anche l'anno scorso ritorna anche quest'anno film a tema siamo andati a cercare grazie alla collaborazione del Solaris a cercare fin dove ci sono riferimenti su Pesaro sulla provincia e sulla regione Marche tutte le iniziative sulle attività in programma si possono trovare sulla pagina Facebook di Hauser volontariato Pantano Pesaro e concludiamo questa edizione del nostro telegiornale con delle buone notizie che riguardano le tre squadre cittadine pesaresi tre squadre che hanno iniziato l'anno in un ottimo modo stiamo parlando della VL stiamo parlando della VIS e dell'Ital Service calcio a 5 anno nuovo e stesse abitudini un 2023 iniziato con il piede giusto da una VL che alla Vitri Frigorena prevale nettamente su Treviso vincendo per 101 a 72 un successo che per i biancorossi ha significato tanto il ritorno ai due punti dopo due sconfitte consecutive e il ritorno con matematica certezza alle final eight di Torino in programma per febbraio ottima prestazione della squadra di Repish brava sulla circolazione di palla per poi trovare le manone di Kravic che chiude con 21 punti e il tiro da Tre di Moretti che ne ha messi a referto 19 Carpegna prosciutto basket pesero che ora si trova appaiata al quinto posto in classifica in attesa dell'ultima partita d'andata a Scafati per capire come si posizionerà in vista della Coppa Italia dai biancorossi della VL ai biancorossi della VIS pesero che non potevano immaginare un migliore inizio di anno nuovo dopo un 2022 chiuso con la vilente striscia di 13 partite senza vittorie tre sconfitte su tre con brevi in panchina i biancorossi sfoderano la migliore prestazione dell'anno ed espugnano Fiorenzo alla darda con un 0-3 sul campo degli Emiliani che di punti ne avevano il doppio della VIS a decidere l'ottavo gol di Fedato arrivato al tramonto del primo tempo la prima firma stagionale di Di Paola che disegna una punizione magistrale al 52esimo e il primo gol in maglia VIS di Pucciarelli che chiude i conti al 58esimo al termine di un perfetto contropiede corale la VIS vince e si rilancia in classifica passando da penultima a intravedere l'uscita dai play-out dalla serie C alla serie D tra fine 2022 e inizio 2023 non cambia la musica dell'Alma Juventus Fano che incappa nella terza sconfitta di fila al Mancini vincono i lazzali del Nuova Florida per 0-2 come la VIS nel calcio anche per l'Ital Service nel calcio 5 è stata una partenza di 2023 con un importante cambio di passo i ragazzi di Colini con grande cuore si rianimano dalla striscia negativa di 4 sconfitte consecutive e tornano a vincere nella sera dell'Epifania lo scontro diretto col Petrarca Padova il primo tempo si chiude sull'1-1 con Alflen che risponde al vantaggio Veneto nel secondo tempo l'Ital Service coglie due legni e trova il gol vittoria di De Oliveira che dà ossigeno puro nella risalita della classifica ossigeno puro e sorpasso della Megabox Vallefoglia che sul parquet di Cuneo batte una diretta avversaria chiudendo il match per 3-7-2 seconda vittoria consecutiva per le Tigri che ora vedono distante la zona playoff di un solo punto E allora davvero complimenti alle nostre bellissime squadre pesaresi per queste vittorie che sono di buon auspicio per questa nuova stagione per questo nuovo anno di campionato e adesso invece andiamo a vedere la programmazione di Rossini TV così come tutti lunedì ci aspetta una serata dedicata a CECAP Obiettivo Salute in collaborazione chiaramente con Fisioradi Medical Center questa sera parleremo delle problematiche della mandibola e lo faremo con il dottor Matteo Casadei che è medico chirurgo maxillofacciale alle ore 21.20 domani invece torna la nostra rassegna stampa vi aspetto alle 7.20 in diretta sul nostro canale 80 come di consueto sulla nostra pagina Facebook e appunto anche qui in diretta e anche sul nostro sito internet e poi vi anticipiamo già quelli che saranno i protagonisti della puntata di giovedì di Insieme a Canestro dopo la grandissima prestazione in questa ultima partita avremo Kravic che è il pivot della Carpegna Prosciutto ci sarà con noi Enzo Belloni in veste non solo di assessore al Comune di Pesaro ma soprattutto in veste di allenatore del settore giovanile della VL quindi vi aspettiamo giovedì in diretta con il nostro Marco Cadeddu alle 21.20 adesso vediamo come sarà il meteo per i prossimi giorni e vi auguro un buon proseguimento di serata